Care mamme e cari papà, in preparazione della Pasqua ho realizzato delle attività in movimento da svolgere seguendo delle filastrocche molto famose. Filastrocche sul tema della Pasqua dove uniamo quindi apprendimento del linguaggio ma anche movimento, attività di esplorazione e di creatività attraverso il corpo. Come sempre buona visione e tanti auguri di buona Pasqua. A presto! Pasqua è gialla come un pulcino, come il collare di un cagnolino. È rosa e allegra come un confetto, come i bei fiori di quel rametto. Pasqua è celeste come il mare e il cielo, come la trama di questo velo. È verde brillante come un bel prato, come il trenino che ha appena sbuffato. Pasqua è dipinta di tanti colori, come i sorrisi dei nostri cuori. La mattina di Pasqua nel mio prato un uovo arcobaleno ho trovato. Era un uovo profumato e strano, non più grande di una mano. Quando l'ho aperto con stupore ho trovato sorprese di ogni colore. Giallo il sorriso di un cinesino, rosso il canto di un algerino. Azzurro il sorriso di uno svedese. Verde la capriola di un portoghese. Violetta la danza di mille bambine. Indaco i suoni di mille ocarine. È arancione, rotondo e paffuto, un sole caldo di benvenuto. Un sole caldo, paffuto e rotondo, uguale per tutti i bambini del mondo.